ciao amici chi si sente gonfio intossicato noi adesso con il caldo ancora di più capisco vediamo allora come eliminare le tossine nocive dal nostro sistema questo è il modo migliore per sentirsi leggeri sgonfi e totalmente depurati per prima cosa dobbiamo impedire alle tossine nuove di entrare nel corpo e poi dobbiamo eliminare quelle che sono già all'interno e ci gonfiano ecco sette semplici suggerimenti per tenere lontane le tossine se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 mangia biologico smetti di assumere pesticidi e consuma cibi biologici quando possibile ma il biologico costa però se il biologico è costoso almeno legge le etichette scegli il cibo più sano quando mangi frutta e verdura rimuove la chimica lavando bene con acqua e bicarbonato 2 aiuta il sistema immunitario se funziona correttamente saprà eliminare meglio tossine allergeni batteri fai esercizio fisico regolare mantieni lo stress al minimo mangia sano ed equilibrato 3 conserva bene il cibo quando serve usa contenitori di plastica ma senza bpa meglio ancora in vetro controlla anche la confezione del cibo che compri stai attento a latte e lattine di alluminio essi sono intossicanti 4 evita cibi industriali ancora non conosciamo gli effetti a lungo termine di molti additivi alimentari e di molte sostanze chimiche compresi dolcificanti artificiali come l'aspartame nel dubbio meglio evitare inizia a fare a casa i tuoi snack da portare con te se vuoi conoscere tante ricettine facili veloci e sane basta iscriversi al canale è facile con un clic così e attiva la campanella per ricevere le mie notifiche 5 mangia meno carne anche se mangi carne per una settimana al mese fai il vegetariano al 100 per cento così tieni lontane le tossine aiuti l'ambiente e risparmi anche denaro mi sembrano già tre buoni motivi vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona partecipa agli eventi vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta italia prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere 6 assumi antiossidanti gli antiossidanti aiutano a eliminare lo stress ossidativo e l'accumulo di tossine per assumere in abbondanza non farti mai mancare questi alimenti verdure fresche colorate frutta vino rosso nella giusta quantità e cioccolato fondente 7 bevi acqua mantenere le cellule idratate è importantissimo per la depurazione sì ma l'acqua mi annoia aggiunge alla tua acqua alcuni ingredienti sani per fare degli infusi detox e bere ancora di più ho descritto alcune ricettine in questo mio video vivi consapevole e vivi meglio vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri e the book i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao